Benvenuto nel mio canale, siamo di nuovo con te per le notizie sui tabloid. Non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti al mio canale. Dopo esserti iscritto per essere avvisato di tali video più velocemente. Non dimenticare di premere il pulsante di notifica. Sembra che l'idea di Gianni Aman non sia originale. Perché questo sarà basato su altri giocatori quando rilasceranno i loro profumi. Gli attori non sono solo i migliori della scena, ma anche sono imprenditoriali e strategici nel creare e vendere i loro prodotti. Vi diremo chi ha copiato Gianni Aman con l'idea di lanciare il profumo Mania. Una delle attrici più note per il suo lavoro, nel 2008. Dai abbigliamento e accessori agli integratori e prodotti di bellezza. Gminetto Peltro, che ha fondato Goop, un'azienda di lifestyle e benessere che offre una vasta gamma di prodotti. Goop così tanto. Ha avuto successo e ha generato miliardi di dollari di vendite. Anche Peltro ne ha diversi. Ha scritto libri di cucina e lifestyle e ha pubblicato numerosi vini e birre. Gianni Aman interpreterà un altro attore che ha raggiunto il successo nel mondo degli affari. Ryan Reynolds, che ha lanciato il suo marchio di gin chiamato Aviation Gin. Reynolds è anche una televisione e società di produzione cinematografica, e ha investito in varie società tecnologiche e di servizi finanziari. Chi sta copiando Gianni Aman? Ha lanciato il suo marchio di prodotti di bellezza e cura personale chiamato The Honest Company. Potrebbe essere Jessica Elba, un'altra attrice che l'ha creata. Azienda. Dai pannolini e salviette ai prodotti per la pulizia e la cura della persona. Offre una vasta gamma di prodotti naturali e biologici. The Honest Company ha generato miliardi di dollari di vendite e ha avuto un discreto successo sul mercato. Un'altra persona rappresentata da Gianni Aman e Artbeat Productions. Potrebbe essere l'attore e comico Kevin Hart, che ha creato il proprio marchio di prodotti per il fitness lo stile di vita chiamato. Da abbigliamento e accessori educativi a libri e programmi educativi online. Offre una vasta gamma di prodotti. Art anche. Ha fondato la sua linea di birra e ha investito in varie società tecnologiche e di servizi finanziari. In poche parole, molti attori famosi hanno perso la loro popolarità. Sono stati incoraggiati a fare affari e creare i propri marchi di prodotti. Gianni Aman ha visto questo e calcolato la probabilità di successo durante il lancio di un prodotto, quindi. Potrebbe non essere il primo prodotto che abbiamo visto promosso. Chi sta imitando Gianni Aman con il suo profumo mania? Beh, certo. Dovremmo dire ispirato per loro, ma suona quasi meglio di copiare, che suona meglio. Era così nelle nostre notizie, se ti piace, premi il pulsante mi piace e... non dimenticare di iscriverti. Ci vediamo nel prossimo video. Arrivederci.